In 21 sono stati multati dai carabinieri della compagnia di Sondrio per non aver rispettato le regole anticontagio previste dalla zona rossa natalizia. C'è chi non ha rispettato il coprifuoco delle 22 muovendosi sul territorio senza vaido motivo. Chi voleva praticare lo scialpinismo fuori dal proprio comune di residenza. L'attività sportiva amatoriale è consentita nei giorni in cui è in vigore la zona rossa ma all'interno dei confini comunari. Non solo sanzioni, i militari dell'arma sono stati infatti impegnati nell'informare i tantissimi cittadini che hanno telefonato per richiedere informazioni, per sapere cosa fosse consentito fare e cosa invece fosse vietato. È stato grande il senso di responsabilità diffuso tra le persone che hanno contattato i carabinieri, chiarimenti richiesti per essere in regola con norme anti-covid. Intenso è stato l'impegno dei militari sul territorio agli ordini del capitano Nicola Severo Leone. Dalla vigilia di Natale al 27 dicembre i carabinieri della sezione radiomobile e delle stazioni comprese nella compagnia di Sondrio hanno denunciato a piede libero tre persone. Nei guai un 25enne di Morbegno per detenzione di stupefacenti. Nell'abitazione del giovane è stata infatti scoperta una piccola serra artigianale di marijuana. Denunciato un trentenne marocchino per ricettazione, a vacanza una bicicletta rubata. La terza denuncia ha raggiunto un uomo residente nel Sondriese agli arresti domiciliari che durante un controllo non è stato trovato nella sua abitazione. Sono state elevate tre multe per inflazione al codice della strada con il ritiro di due patenti. E nel corso dei controlli i carabinieri della compagnia di Sondrio hanno segnalato alla prefettura due assuntori di stupefacenti e due persone per ubriachezza.